Cosa ne pensi dell'epidemia covid? Dei vaccini? Della guerra in Ucraina? Dei rincari? No, 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 scherzo. Non mi interessa cosa tu pensi, mi interessa però come tu pensi. Ciao a tutti, sono Samuele Schiavo, sono filmmaker, regista, scrivo e produco video. Aiuto il mondo a relazionarsi tramite la produzione di spot commerciali, video aziendali, documentari e short film. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale. Come avrai capito, in questo canale non parlerò solo di come fare video, qual è il mio regista preferito e bla bla bla. Oggi voglio parlarti di una cosa un po' più profonda che riguarda certe dinamiche sociali e in particolare la comunicazione. Negli ultimi due anni di epidemia ho sentito varie prese di posizione, prese di posizione molto ferree e soprattutto convinzioni. Così è che loro ci mentano. Vorrei parlarti del mio modo di pensare, ossia il dubbio in ogni cosa. Il dubbio però non significa non fidarsi, ma essere curiosi, aperti, avere una consapevolezza. Ecco, io lo faccio in modo continuo, ad una continua ricerca appunto di una verità e di una consapevolezza più profonda. Il dubbio significa, secondo me, voler conoscere e conoscendo sia anche più creativi. La creatività è una forma di ribellione, ad una forma di pensiero. La creatività per i tre cani poi è una capacità di definire, strutturare in modo nuovo le proprie esperienze, le proprie conoscenze. E noi istitivamente ragioniamo per gruppo e non per singoli individui. Stiamo nel gruppo di destra, di sinistra, dei gialli, dei blu, dei rossi, dei verdi. Ma questo lo facciamo per semplice istinto di sopravvivenza. E lo facciamo per risparmiare energia e in particolar modo in caso di pericolo. Si parla spesso di verità non dette dai media, dalla tv, di un lavaggio del cervello. Ma bisogna anche fare attenzione alle verità che vengono sbandierate da determinati gruppi. Far parte di un gruppo, ascoltare quello che dice, non c'è niente di male. Ma adottare, secondo me, la visione per un senso di appartenenza, quindi per una necessità, lo trovo un po' controproducente. Si generano sempre di più dei pori di pensiero, generando quindi ovviamente odio sociale, quindi dei sentimenti negativi. E questo ovviamente è sotto l'occhio di tutti. C'è un'ultima cosa che secondo me fa una differenza mostruosa nel modo di pensare, ossia il modo di pensare all'agire. Se qualcosa ci impedisce di arrivare al nostro obiettivo, invece di inveire contro quel qualcosa, possiamo trovare un'altra strada per arrivarci. La maggior parte dei problemi di ogni genere, lavoro, scuola, famiglia, relazioni, eccetera, sono di comunicazione. Ma a monte ci si scontra spesso per visioni diverse, ignorando i modi di pensare degli altri. Diciamo che una cosa viene tradotta in un'altra e sentiamo una cosa che viene da noi tradotta col nostro modo di pensare. Il nostro beneamato cervello ha una sua forma mentis e per cambiarla dovremmo abituarci ad imparare a dubitare di noi stessi. E io l'ho fatto spesso. Quindi chiediti come tu pensi e come pensano gli altri prima di dire cosa pensano gli altri. E poi ci sta il perché, ma quello è un altro discorso. E poi ci sta il perché, ma quello è un altro discorso.